Praticamente noi stavamo lavorando su questa strada, sopra dovevamo pulirla, stavo salendo con l'escavatorino, questo che c'è qua dietro, per andare a pulire l'entrata di un tubo sopra e ad un certo punto ho alzato gli occhi, ho visto questa valanga di paciocco, di terra, fango che cadeva giù e me ne sono scappato via. L'escavatore non l'ha danneggiato, ha portato via una casa sopra, non c'è più, che non era abitata e a un'altra casa non un'altra abitazione gli ha aperto il trato a metà e si è formato il canale dove è arrivato quello. Niente, è un disastro, speriamo che si fermi, questo non è detto.